E poi soprattutto perché siamo in questa splendida cornice del luogo dei Quattro Punti Cardinali, questo bellissimo monumento che è stato realizzato nel 1991 e è una location veramente bella. Ho visto un tramonto veramente pazzesco qui con la vista sul Monte Rosa, sul Lago Maggiore e quindi questo è un luogo un po' che tutti noi tainesi amiamo e ci teniamo particolarmente tanto. Questa sera ci sarà il tuo Darpe Alchimia. Io lascio la parola a Marco che vi racconterà un po' del monumento e vi auguro buona serata a tutti e buon concerto. Buonasera a tutti, sono Marco Tresca, delegato della cultura per il comune italiano di cui porgo i saluti. È bello vedervi così numerosi in questa location, che è un po' il cuore italiano. Come diceva Lorenzo è stata realizzata una trentina d'anni fa e da allora ha sempre ospitato incontri culturali e siamo contenti anche quest'anno, nonostante le difficoltà del Covid, siamo riusciti a portare comunque due importanti spettacoli del Lago Cromatico. Siamo anche molto contenti perché il parco è proprio il simbolo di Taino, il monumento. Quando è stato costruito da Gio Pomodoro era stato inteso come un luogo di contemplazione e anche un luogo di aggregazione. Adesso senza andare a pensare gli assembramenti è bello vedervi così numerosi ed è bello che riusciamo tutti assieme per una sera, la volta scorsa è stato un tramonto, questa volta è una serata, ad assistere a uno spettacolo culturale dove la musica, dove le arpe si incontrano con questa bellissima location che è piena di misteri, piena di storia. Gio Pomodoro ha voluto lasciare molti indizi, molti messaggi anche un po' ermetici su quello che è il monumento a partire da quello che è l'ognomone per quanto riguarda il sostizio d'estate perché questo monumento è dedicato ai quattro punti cardinali ma neanche tanti altri che poi possiamo approfondire magari in un'altra serata per lasciare spazio alla musica. Gio Pomodoro 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 Gio Pomodoro